Che taglia hai di pantaloni? Perché cosa gli devi dare? Voglio regalarti un costume Perché? Un costume mio Un costume? Di mio col mio logo Non li vendiamo più ma ce li ho qua dietro Cioè non metto un costume Ah non vai a mare? Non fai i bagni Lui ha intenzione di vedere in Sardegna con noi con i jeans Allora non ti regalo niente Infatti allora l'idea principale Questo lo sfruttiamo dopo L'idea principale Doveva essere quella di andare insieme In Sardegna In moto Esatto dovevamo andare in Sardegna In moto Poi con quello è appaccato No non è che abbiamo appaccato È che ho detto Cioè stiamo là alla fine una settimana Che cazzo c'è tanto? Scusa E siamo in un posto Che adesso non dico Però c'è nel senso Ah ho capito Mi spostavo con le macchie E poi ho detto Ma zio Tu andare in giro in estate In moto Io da quando sono caduto Ma non con 71 Da prima che avevo lanciato la carre E' una palla Proprio Che è vero Non è voglia di andarci A pantaloni corti Cioè io se vado in moto Con i pantaloni corti Mi viene Cioè L'ho fatto due volte col TM Ma sono tornato a casa E mi sentivo proprio È un po' un suicidio Andare in Sardegna D'estate Estate Con le moto serie Eh? Matteo i jeans Eh beh Fa caldo Comunque Ma va Ma Non si può Ma va Ma va Grazie a tutti.